ben ritrovati amici di stato quotidiano con la bebe import leader nella distribuzione di beverage ormai sfiorato i 50 milioni di euro oggi qui a reggio hotel manfredi per il primo open day del 2024 siamo in compagnia del presidente maurizio ecco presidente raccontaci queste iniziative si salve a tutti noi siamo chiaramente diciamo un'azienda distribuzione è ormai da 38 anni e quindi dal 1986 per la precisione ovviamente un'azienda che ormai ha diciamo cavalcato la leadership nel sud italia per quanto riguarda il food and beverage noi qui oggi con l'open day a manfredonia abbiamo voluto suggellare questo che è un percorso che diciamo vede come focus la provincia di foglia foglia e provincia per noi è un focus importante nei prossimi anni abbiamo una squadra molto molto importante molto unita molto valida del tema del commerciale ma tutto il sistema anche distributivo e quant'altro l'obiettivo primario nostro è quello di condividere essere diciamo dei consulenti per il mondo voglio dire dell'orega dove chiaramente oltre a prodotti di qualità chiaramente offriamo anche servizi annessi sostanzialmente di base noi il vino alla birra è il nostro core business poi il progetto si complementa con altri due pilastri importanti che sono gli spirits e il food e sui quali chiaramente il mondo del focus primario quindi del core business abbiamo anche un'area che riguarda la produzione dei prodotti stessi con i prodotti di base nel mondo del vino per regarsi che è un'azienda ormai leader diciamo in puglia e dove chiaramente i prodotti sono apprezzatissimi e super premiati parliamo del mondo del vino che distribuiamo voglio dire in esclusiva ma chiaramente abbiamo anche le mani dentro un po la produzione dove il mondo del vino anche del regarsi che è una delle aziende diciamo che fa parte del gruppo ma sostanzialmente anche il mondo della birra è presidiato con i prodotti che diciamo che vengono dalla birrificio del salento dove abbiamo agricola nude e cruda e quant'altro prodotti peculiari mediamente chilometro zero che fanno la differenza nel mondo della distribuzione oltre a fare commercializzazione di prodotti chiaramente vogliamo che il messaggio arrivi anche sotto l'aspetto consulenziale i nostri clienti per noi sono dei partner con cui condividiamo percorsi comuni lo scopo e l'obiettivo primario è quello di fare un lavoro fatto bene insieme prodotti qualità abbinare sostanzialmente anche il servizio che alla base è il nostro percorso servizio che noi facciamo sotto l'aspetto della consulenza nell'ambito dei vini con i nostri sommelier professionisti dove entriamo anche nella ristorazione e diamo la possibilità di creare quelle carte vini attente gli abbinamenti gastronomici e quant'altro lo stesso sistema lo usiamo nel mondo della birra dove ormai la birra è diventato un progetto molto peculiare che insieme e similarmente al mondo del vino propone degli abbinamenti anche gastronomici e chiaramente abbiamo i nostri specialist che fanno anche questo poi ancora nel mondo degli spirits abbiamo i nostri barman i nostri uomini che sostanzialmente danno tanto assistenza e altrettanto nel mondo del food è un'azienda completa con i quattro pilastri fondamentali che comunque al servizio del territorio e per noi foggia e provincia sarà il focus e sarà diciamo il nostro obiettivo che vorremmo crescere insieme diciamo a questi imprenditori e a questo mondo dell'orega che ci appartiene grazie e buona giornata grazie grazie a voi grazie e complimenti